Io ne avevo 17, 18, non di più, ok. Cosa c'era attaccato al muro? Due cose. C'erano due cose. Devi dire solo due cose, basta. Un poster di Vasco Rossi. Tanto, tanto così, però, tanto! Ok, e non ti dico. Io non lo dico. C'era due cose, uno l'ha detta a posto, l'altra. Non è sporca, assolutamente. Però, veramente, già a quell'età si capiva dove dovevamo andare a parare. Come poi, alla fine. Però era una bella cameretta, giusto? Passa, tutto qua. Era così tanto per raccontare quest'aneddoto, per tenerti qua un po' e non farmi più parlare in giro, perché ho visto che tu vieni qua e loro ascolcano me. Vai fuori e loro vengono dentro. Sei come il palettone, cazzo. Non c'è di un cazzo. Come fai? Grazie a mio fratello. Perché questa sera glielo posso dire e voglio vivere dell'aleguio. 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 Ma è finito, basta, è finito. Vi ringraziamo, vi salutiamo. Vi ringraziamo tutti i ragazzi dell'aleguio. Grazie a tutti voi e a tutti gli amici da Padova che hanno fatto un bel giro. E adesso adesso andiamo a tutti voi e andiamo in giro per Treviso a cercare un vigile che ci dice a servizio delle videocamere perché mi sa che mi ha beccato 4-5 minuti oggi. Adesso voglio vedere un'altra cosa. Finito. Finito. Cosa c'è che... Cosa c'è che non va Davide, vai in vedere Vieni qua Sai che alla nostra età Non va bene Non si va Vieni qua 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti